partita la prima serie ragazzi dei cento stile libero Simone Monticchio è leader della classifica provvisoria con cinquantaquattro e undici Filippo Tubertini nuota in quarta corsia in virtù del miglior tempo di iscrizione ha stato due volte sul terzo gradino del podio ai campionati italiani giovanili nei cinquanta e cento stile libero nei cento stile aveva nuotato in quell'occasione cinquantadue e diciannove Tubertini davanti a Tescari e Magro metà gara venticinque e diciotto il passaggio di Filippo Tubertini il primato della manifestazione targato Mauro Tognato cinquantuno cinquantacinque stabilito nell'edizione dello scorso anno il rush finale Tubertini davanti Tescari che insegue Filippo Tubertini cinquantadue e cinquanta per la vittoria davanti a Mattia Tescari cinquantatré e trentacinque e poi cinquantaquattro e zero uno perché che